Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video Sono Pietro Castiglioni Ed oggi siamo in un nuovo vlog In questo vlog siamo a casa del mio amico Leonardo Cislani Ciao E andremo a fare i bottle flip, la bottle flip challenge Per chi non la conosce La bottle flip challenge è questa Allora, tu lanci la bottiglia E deve attirare o così O su tappo Iniziamo, inizio io Vai Non mettere davanti la mano Iniziamo Vai qua Aspetta che lo faccio Scusate Non riesco a capire l'inquadratura giusta Si vede bene? Ok Primo bottle flip Guardate A proposito Se si fa almeno un bottle flip Poi si rifà Invece un bottle flip a testa Se lo sbaglio Quindi Io ne ho fatto uno Adesso tocca Leonardo Vai ragazzi Tocca Leonardo È sbagliato Tocca a me Da parte il fatto che mi si vedeva le montagne Scusa No No I pantaloni Ah i pantaloni Ecco ragazzi Guardate 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 da vicino Questo è un bottle flip Dall'alto Questo è un bottle flip Vedete l'acqua dentro Deve essere tre righe È un bottle flip Questo è un bottle Questa non è tre righe Però l'abbiamo contato Tre righe Intese come Una Due Una Due Mi sta sfogrando tantissimo oggi Perché domani Dalla mezzanotte in poi Non posso più bere Giocare A far cose Perché dopo domani Giovedì Io devo fare l'operazione Cos' stai facendo Sbagliato Troppo sbagliato Guarda Voglio provarci Non riesco a più Ma le tante foto Pssst Mizzagappa Sbagliato Io ho fatto tre bottle flip Uno Uno Sì Uno Io non ci sto più riuscendo E' lui Il Leo Non ci sta riuscendo Vedete Non ci riesce Ma spacchi la bottiglia Così E invece Vai Il Leo Vai Pesarlo Che Scemo Stapido Ma non deve mettere Oh Dio Non te lo passo Vai No Pietro che non l'ha fatto Pietro non l'ha fatto Bravo Ce l'hai fatta a capirlo Che non l'ho fatto Adesso proverò a calciandolo A C'era quasi Però non ce l'ha fatto Perché il mazana Perché Vai Vabbè Quasi nel culo C'è una stella Su Minibus Guarda Guardate Guardate Quasi su Minibus Vado 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 Lei appena fa Che sta Un brutto barone E' atterrato 30 Guardate Che Madonna Ha merato Ha merato Imbroglioni Dio Dio Allora Adesso lo lancio Aspetta L'ho lanciata Fatemi riprovare Aspetta Voglio fare una cosa Leo Voglio fare una cosa Aspetta eh Non so come tenere in mano Leo Ti sento Allora Vado La lancio Tieni Oddio Ce l'ha fatta Sul top Ragazzi Oh my god Vai Di nuovo Ti riparti Oh no Ragazzi Mentre lo facevamo Lui gli ha cambiato posto Perché non riusciva Da là Era un po' difficile Perché era lontanissimo Quindi si è messo qua L'ho lanciata E' tirata Su top Cioè ragazzi Che bro È Leo Cioè Vado ragazzi Per voi Anche questa Eccoci E' la per Guardate Ci riprova Ragazzi No Adesso Tocca me Vai Riprova Vai Scusate ma Scusate ma Si era bloccata Di nuovo La collezione E quindi Ultimo Butterflip Per me Non so Dove lanciarlo Idea La volta di mozzare Contro la palla Vedete che E' rimbalzante Vai Rifacciamo Vai Ah Sì Ecco ragazzi La quinta Millesima Volta Che non lo faccio Ragazzi Adesso 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 Circo La Quindi Parla Teranno In piedi Per voi Leo Leo Primo Tentativo Errato Prova Il secondo Vai Leo Riprova Il secondo Tentativo Boom Bitch Get off The way Guardate Un altro Mega Va bene Ragazzi Sapete una cosa Direi di Concludere Qua Il video Iscrivetevi Mettete I like 20 like E se vi è piaciuto 20 like Mi raccomando Se vi è piaciuto Uscirà un nuovo video Con un altro Mio amico Vi è piaciuto Se vi è piaciuto Tantissimo 50 like Ma io vi lascio Vi lascio 20 like Però Io voglio che Raggiungete 20 like Se ne facciamo di più Nuovo Episodio Dei Butterfip Con mia sorella Perché Come sa Alcuna Persone Di voi Io ho Una sorella Va bene Ragazzi Direi di concludere Quel video Iscrivetevi Commentate Mettete Like Saluta Leo Ciao E guai